costumi e unghie non abbastano per la festa più spettrale dell'anno serve anche un trucco d'effetto se cerchi un'idea per trucco allwin 2022 facile credi che le migliori ispirazioni siano complicate da riprodurre se nel posto giusto abbiamo selezionato per te le idee make up più facili da copiare per un trucco spaventoso originale e di sicuro effetto servono pochi trucchi e moltissima fantasia non ci credi continuo a leggere make up allwin facile ti bastano questi prodotti non serve essere un make up artist per realizzare un trucco facile e veloce dedicato alla notte più spaventosa dell'anno è possibile realizzare make up semplici utilizzando pochi prodotti e anche se hai poca manualità qualche esempio una matita nera un eyeliner dal tratto intenso rossetti scuri e ombretti opachi per gli occhi mentre per la base viso potrai lavorare con fondotinta di tonalità molto chiare cipria e bianche o semplicemente dei kit di trucchi per halloween che puoi reperire in qualsiasi e-commerce ovviamente a non mancare sarà la fantasia trucchi da strega vampira zombie diavoletta spettro teschio con sangue o ispirati ai personaggi più spaventosi di film e serie tv con pochi gesti potrai trasformarti in man che non si dica trucco occhi da gatta per halloween il catai facile e veloce il gatto nero è il simbolo per eccellenza del 31 ottobre giorno in cui si celebra halloween cosa c'è di meglio di un trucco occhi da gatta che rende lo sguardo felino e seducente puoi realizzarlo in meno di 5 minuti usando un eyeliner con punta sottile per creare linee grafiche precise e definite disegna una linea sottile dall'interno dell'occhio e spessiscila verso l'esterno se hai poca manualità usa un eyeliner in penna che rende il procedimento molto più facile e rapido non può certamente mancare il mascara mentre per dare profondità usa un ombretto scuro ti basterà sfumarlo per dare all'occhio il classico effetto smoky che rende il tutto più misterioso e irresistibile cerchietto orecchie gatto per halloween 10 euro e 99 centesimi in stock vedi dettagli amazon it is over november 15 2022 16 48 trucco da spettro facile per halloween lo abbiamo visto sulle unghie per halloween più belle gli spettri sono onnipresenti il trucco tema spettro è molto facile da realizzare non stanca proprio mai per realizzarlo ti basta creare una base molto chiara e usare l'eyeliner per decorarla con cicatrici ragnatele e pipistrelli la matita nera ti aiuterà invece a dare agli occhi un aspetto spettrale che puoi accentuare usando anche matito ombretti viola e bordeaux trucco da strega per halloween il make up ragazze halloween più amato quello da strega ovviamente basta avere una matita nera disegnare pipistrelli e piccole ragnatele sul viso e un rossetto rosso o nero per ricreare il look della strega modello spaventosa inquietante e oscura come la notte se invece vuoi usare con un trucco più sexy e particolare considera l'idea del contouring come insegna angelina jolie in maleficent questa tecnica è utile per dare agli zigomi un aspetto spigoloso e naturalmente cupo non potranno mancare le ciglia finte meglio ancora se magnetiche per il trucco acchi matita nera ombretto scuro per smokey eye e glitter sui toni del bordeaux o del viola sono una certezza vuoi scoprire idee per make up da strega sexy in questo articolo ne trovi ben 50 trucco di halloween da vampira se ti ispiri a dracula e vuoi un look sexy ma al tempo stesso pauroso il make up da vampiro facile è la soluzione che fa per te puoi ricrearlo partendo da una base chiara ottenuta con un fondotinta chiarissimo utilizzando un ombretto bianco molto pigmentato su tutto il viso se indossi i denti a punta puoi applicare dei mini strass per decorarli o delle gocce di sangue finto che puoi trovare facilmente in vendita sugli occhi dominano ombretti neri rossi viola e blu scuro lo smokey eye è perfetto per questo tipo di look e puoi accentuarlo con delle lenti a contatto rosse o gialle trucco zombie per halloween è il momento giusto per sfoggiare con orgoglio le occhiaie mai come in questa festa le occhiaie trovano il loro momento di gloria protagoniste per eccellenza di uno tra i look più richiesti quello da morto vivente per il make up da zombie ti serviranno un fondotinta chiaro una matita nera un ombretto blu nero e viola e un rossetto viola o rosso avrai subito la tipica area dello zombie trasandato proprio come in the walking dead make up semplice da diavolo diavoletti e demoni sono onnipresenti in ogni festa di halloween che si rispetti il motivo è semplice si tratta di un make up davvero facile da realizzare e di sicuro effetto per realizzarlo ti basta applicare un ombretto rosso su tutto il viso definire le labbra con un rossetto nero e intensificare lo sguardo con uno smokey eye profondo questa idea è ottima anche per il trucco halloween uomo sete con corna per costume diavolo per halloween out of stock vedi dettagli amazon it is of november 15 2022 16 48 make up da teschio per halloween un fondotinta chiaro un ombretto chiaro da stendere sul viso una matita nera per occhi e dettagli detto fatto il teschio è uno dei trucchi più semplici in assoluto perché utilizza solo il bianco e il nero cicatrici ragnatele osse in bella vista gioca con la fantasia e se desideri dare un tocco di brio puoi applicare dettagli in strass o intensificare il trucco con glitter super luccicanti make up semplice con sangue per halloween il sangue finto è facile da reperire e semplifica del tutto le operazioni di make up le gocce di sangue danno un tocco splatter al tuo look e si abbinano bene anche alle più belle unghie per halloween puoi applicarle sotto le narici sulle occhiaie ai lati delle labbra sul collo o sulla fronte per un effetto più glamour puoi intensificarle con dei glitter rosso argento trucco da bambola assassina facile per halloween chaki la bambola crudele icona del cinema horror è uno dei trucchi più copiati per la notte di halloween ma come realizzare un make up fedele al personaggio ma al tempo stesso non troppo complesso da realizzare le idee non mancano su una base chiara puoi lavorare di matita nera e bianca per gli occhi e disegnare le sopracciglia mentre un buon blush darà alle guance quell'effetto rosato tipicamente da bambolotto rossetto rosa o rosso lentigini disegnate con la matita e due linee definite di matita nera che scendono dalle labbra completeranno il tutto make up sposa cadavere facile emily è la sposa cadavere protagonista dell'omonimo film di tim barton un personaggio malinconico ma che ogni anno viene è scelto come soggetto per moltissimi trucchi per il 31 ottobre per realizzarlo ti servono tre colori blu per la base viso da sfumare con un po di bianco eyeliner nero per gli occhi e rossetto rosso per le labbra unico neo andare in giro con gli occhi chiusi per tutta la serata pur di sfoggiare gli occhioni del personaggio trucco da clown semplice per halloween it ci insegna che non bisogna mai fidarsi dei clown soprattutto se spuntano dei tombini e non sono per niente rassicuranti ma i personaggi così ci attirano e per halloween non può di certo mancare il clown spaventoso da esibire ai parti a giocare un ruolo fondamentale in questo tipo di make up base bianca per il viso ombretto nero e rosso per gli occhi lenti a contatto colorato e tanto tantissimo rossetto bordo rosso da applicare non solo sulle labbra ma anche sul naso e perline e ti accompagnano tutto il viso make up labbra cucite se vuoi un'idea super semplice le labbra cucite sono una sicurezza si disegnano in meno di cinque minuti fanno il loro figurone e valorizzano ogni tipo di look basta schiarire le labbra con un fondotinta chiaro e con una matita nera disegnare due linee orizzontali ai lati con brevi tratti verticali che simulano la cucitura facile veloce e spaventoso trucco ragnatela semplice se hai poco tempo a disposizione la ragnatela è un trucco tanto semplice quanto originale si realizza in pochi gesti applica un fondotinta molto chiara su viso e labbra e poi realizza uno smokey eye aiutandoti con ombretti d'arche opachi disegna dunque la tua ragnatela con una matita occhi appuntita se vuoi rendere il risultato ancora più interessante puoi applicare dei brillantini sui ragnetti o sulle estremità della ragnatela per un effetto super glamour ti abbiamo mostrato le idee più facili per il trucco di halloween adesso dici la tua ti aspettiamo nei commenti per sapere cosa ne pensi e quali sono i tuoi preferiti potrebbe interessarti anche trucco fata per halloween 24 foto idee originali e divertenti 100 foto unghie per halloween le idee più belle del 2022 trucco halloween strega i 50 look più belli da provare